Buongiorno e buona domenica a tutti ragazzi, siamo in direzione di Porto Venere Vieni, è sparito tutto, sento tutto Vado nuovo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 è stato un po' di sede è stato un po' di sede è stato un po' di sede benvenuti a Portovenere non mica gente, no, appena appena torno gente che è bene ehi che si passa domani c'è un parquetto, viva la flicka bella in un'arica un'arica Grazie a tutti. Non ci troviamo a mare. Sì, sicuramente. Ma hai ragione comunque. Perché poi, prima cosa, i costantini sono piccoli. Sì, ma poi... La moto, tremando, quando tu devi spegnere, accendere tutto... Molto sensibile. Che spettacolo, bello, bello. Hai ragione che va molto bene. È molto bello. Peccato che non ci parla. Il bagno. Il bagno tutto? Ah sì. Sì, ciao. Proprio, guarda. Ma nemmeno... Sì. Sì. Ma che bella. Non fa bene. Vediamo il ghiaccio. Fai un altro lavoro, detto. 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 Fuori. Questo da... Da Portofino. Sì. Sì, vuoi? Sì. È bello. Porto Venere, stupendo Siamo? No, andiamo qua. Che spettacolo. Porto Venere. Porto Venere, stupendo 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 Porto Venere, stupendo